E, un pozzo inesauribile di sorprese e curiosità Aurora Ramazzotti, e con lei non ci si annoia proprio mai. Oggi arriva una confessione veramente imbarazzante, Aurora Ramazzotti ha un gatto molto particolare che compare spesso sui suoi profili social, è entrato nella sua vita cinque anni fa e appartiene ad una razza di felini ancora poco diffusa in Italia. Il bellissimo figlio peloso dell'influencer figlia di Eros e Michelle Hunziker si chiama Saba Miao ed è un persiano Tabby. Segni particolari, una pelliccia densa e sericea, con tonalità blu ardesia su un colore che di base è avorio azzurrognolo. A differenza del persiano classico, oltre a un manto particolare e inconfondibile, ha la testa rotonda e leggermente schiacciata, con il naso corto e gli occhi larghi e rotondi anch'essi. Di lui si è parlato anche in una delle ultime «Stories» di Aurora su Instagram. La disavventura tragicomica di Aurora Ramazzotti. Non so se ve l'avevo mai raccontato esordisce Aurora Ramazzotti, più tonica e pimpante che mai, nel suo video, credo di sì, di quella volta che mi sono chiusa fuori casa con il mio gatto, senza chiavi e senza telefono. Stavi aspettando una consegna, Saba è uscita fuori come sempre perché vuole evadere da me perché mi odia, è arrivata una folata di vento e si è chiusa la porta alle nostre spalle. Ebbene, siccome io non mi ricordavo nessun numero di telefono e non avevo nessuno a cui chiedere il telefono il prestito continuo Aurora Ramazzotti ho deciso di andare da mia nonna a piedi, ma intanto dovevo trovare una sistemazione al povero felino, il quale era spaesato a dir poco. E allora ho cercato ossessivamente per tutto il palazzo finché non ho trovato qualcuno che me l'ha tenuto, nello specifico erano due bambine con la tata e la sorella più grande, diciamo pre-adolescente, che sono state molto carine. Tutto questo per dire che, oggi ho incontrato la sorella più grande, stavo uscendo, le ho detto, ciao come stai, e lei mi ha risposto, bene, lei? Segue espressione interdetta di Aurora, immobile in silenzio, come pietrificata, che poi conclude, niente, oggi voglio morire, grazie ciao. Saba Miau, per la cronaca, ha anche un profilo Instagram tutto suo seguito da decine di migliaia di follower, dove la padrona Aurora Ramazzotti lo presenta così persiano tabi alla ricerca del piano perfetto per liberarsi dalla clausura imposta dalla sua stupida umana. Odio tutti, la sua pagina è costellata di selfie degni di concorso felino. Sappiamo che il gatto di Auri è per indole molto indipendente, ma ha un caratterino tutto pepe e non lesina di spetti alla sua amica due zampe.